salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi come di consueto apriamo gli star drops questo è il primo il primo è raro e ci darà la bellezza di la bellezza di un caricamento no di 57 monete ok ricapitolando il negozio abbiamo le offerte di ieri e però è uscita a me almeno è uscita questa offerta di capitan corvo a 39 gem al posto che 70 quindi se vi piace la skin non volete spendere molto chi ce l'ha vada nel negozio e se la prende ci vediamo al prossimo eccoci qua super raro non è c'è andata benissimo ci manca solo l'ultimo star drop però ok raddoppia gettoni anche se i gettoni ne abbiamo solo più 20 però non importa prendiamoci questi punti energia e ci vediamo all'ultimo star drop che spero essere più fortunato perché mi hanno fatto abbastanza schifo ok ok raga questo è l'ultimo star drop di oggi super raro super raro epico epico non credo che ci sarà qualcosa di interessante ma vabbè non è possibile perché prima ho sentito rumore di monete ma c'è l'altro 109 punti energia che io non me ne faccio niente o meglio sì però non sono cosa voglio vabbè per due giorni siamo stati sfigati ma tanto comunque per chi se lo stasse chiedendo ho trovato l'icona di corvo l'icona della skin corvo fenice da 299 gemme in uno star drop epico sì ho trovato quella di colt banana in uno in uno star drop mitico vabbè comunque comunque appunto vediamo domani poi se troviamo qualcosa interessante quindi ciao a presto